Un giovane, una mamma di famiglia, un seminarista e un sacerdote armeno. Sono stati loro a prendere la parola nella chiesa dell'assunta di Tiblisi per formulare alcune domande a Papa Francesco tra speranze e incertezze, problemi e dubbi. Per rispondere il pontefice è partito dall'immagine di una signora anziana georgiana incontrata in Armenia, una donna che non si è fatta spaventare dal lungo viaggio per incontrarlo, sostenuta dalla sua fede salda. Questa è stata la radice di un lungo discorso in cui è declinato le varie questioni. La fede ci è stata offerta in dono nel segno di una lunga tradizione e questo tesoro deve essere custodito, arricchito e non dimenticato in un cassetto. Solo una fede salda può sostenere i sacerdoti o i seminaristi nei momenti di difficoltà quando invece di tornare indietro dovrebbero ricordare la carezza del Signore quando li ha chiamati. Solo una fede salda può aiutare gli sposi a non perdersi nelle tentazioni in un mondo in cui è nata una guerra mondiale contro il matrimonio, non una battaglia fatta con le armi ma con le idee. Solo una fede salda può aiutare i cristiani a ritrovare l'unità. I cristiani, ha insistito Papa Bergoglio, non dovrebbero mai condannarsi, ma fraternamente pregare gli uni per gli altri, insieme compiere opere di carità, insieme testimoniare la misericordia infinita di Dio.